E pensà che... Ma te se non vieni si gioca in quattro, eh? Cosa stavamo dicendo? Ok, bella, siamo in live. Siamo con... Gionavantata Ken, Traskraft, Alain Matteo, che è piuttosto culo. E poi Toxic Subirno e... Cosa, Euro 4? Cioè, Bonucci... Ah, ci ha fatto perdere la finale. Voleva comandare la Euro Manazria. Oh, dia quell'altro in testa di cazzo di smuta perché se no non giocano nemmeno mezzo round. Sì. Ma se è scemo? Eh, fatti! All'etilato è già che tanto per l'altro ne ha parlato di cazzo. Poi, il tuo caso è solo smutano. E lo si usate. Ma diglielo se no si succede. L'abbè fatto litigare lo spogliatoio. Cazzo di essere smutato. Cazzo mi lascia i Valkyrie che mi manca due round e mi lascia un bolino. Eh, vedi, devo andare a prendere col primo account, è un bolino stupendo. È stupendo, è durato con cazzo di Valkyrie. Sì, sì, te l'ho lasciato, eh? Grazie. È stupendo, infatti dovevo andare libera col primo account. Aveva anche a due round, mi manca tanto. Bella, ci abbiamo seguito uno spettatore, è cattivissimo, lui. Nooo, scrivete sotto hashtag il ghost, c'è la mamma puttana. Ieri ero liberato con i contingenti o pitch, ci trovavete fatto in incontro. Eeeh, ho chiamato, cioè il mio padre non risponde. Non ce ne frega un cazzo. Non stai zitto, non parlavo. Ah, sono di famiglia, sono. Ehm, ugualmente, ha detto, in base a che ore torna lui, ma regola torna prima, quindi sì, posso accompagnare. Dobbiamo regola. Quindi oggi è la terza live del giorno. Eh, ma sono andato. Perché non è scelto operatore? Perché sai, cliccare X prima di andare a fare una chiamata che poi non ne frega un cazzo a nessuno. Lo sparo a me e butto a terra uno. Ghiocane! Porco, chi è che mi ha sparato? Io per spaccare il drone. Vabbè, ho dock, però che cazzo. T'ho spartanato così tanto da vita, t'ho pensato al piedino. Avevo 22, avevo. Matte, 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 matte i secondi. No, Leo, vede se ti ammazzo. Ma voglio proprio veramente provarla, se gli azioni di morire. Porta al sicuro! Sono deciso da fare la botola, si è fatta team kill tutti. Se c'è glass e mi ammazza, mi incazza. Ah, prima domanda. Per chi sto qui con Caveira? Ah, giusto, mani incurato al Valkyrie. Qui me la avete rinforzi? Raga, ho messo un Valkyrie e non l'ha visto. Ok, come fai? Gli ulti frontale. No, no. No, c'è 1, no. Non ti scoprirai se rimani in questa zona. Ti hanno visto. Prefire con il punta e da pompe. No, per me dovevate rinforciare. Oh, Marti, matte cura, matte, siringa. Attento per me. Oh, ma che cazzo. No, eh, guanto a touch. ho visto in diretta mannaggia però è dalla fine dell'aereo fine dell'aereo cioè switch e bacio le scale no cosa ha avuto la terra non è che ti lascio la kill ormai mi ci butto e la prendo l'avrebbe fatto chiunque ma non sfruttare per favore mi viene a curare dal fondo dell'aereo tanto sono grazie in culo e l'altro più in culo dell'altro no 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 voglio una kill voglio una kill hanno rotto la camera vengo ma rimasso le scale tanto dovrebbe dire ha spottato l'avviso lascia che abbiamo dato che che controllava la cab è infatti pensavo che stava tornando invece lo stavo spingendo come fai a mandare un riferimento col c4 dio è rimanato in ferimento sì sì e questo è bene cioè è normale che mi butto e voglio prendere da qui perché non l'avrebbe fatto è fuori o dentro è qui dentro è qui dentro guardiamo il bernio metti un pochino più alta mira il bernio metti con il bernio da sì a chi la inculare il bernio fa una kill in più è arrivato prima da nulla e poi tipo ghost io ho sentito tipo no devo usare bacche perché tipo io ho visto no bello i tuoi geniamenti sono troppi belli fermi 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 te i bernio a termite o ibana poi prendete uno uno i bernio i bernio termite raga veloci vai casta e te piace usare l'ebana qua ma va fa cura ma va a fare i ragazzi non ce l'ho a giusto qualcuno sono obbligato a usarlo io perché ti non non ci voglia di usarlo io non ce l'ho a bernio sai che hanno messo la prima stagione al 50 per cento con la re il grigliere fix assicché c'è botte no no più il grigliere fix è l'elicolata quanto costano fare che devi sempre spendere cinque l'importo l'imparo è morto ma diverso dai nostri passi sopra domani fai nemmeno un quarto del round ma anche ma che li prendi ma te li prendi da lì qualcuno lo prendi sicuro è la spero non sei andato non sei scarso mi so che vuole andare dall'altra parte in attimo in attimo e per se volete vincere fermo casta e castelli e dove dietro un con aspetta perché la gente vuole mettere black eye dove li metto io c'era un pulso che stava la io sono una bestia ve l'ho detto so fatto cos'ho fatto dio cani dio cani e basta voglia di gioca tutto giorno a code ho fatto fatto l'esmani e sta lì fermo saliamo le scale valla push a pace si perde staccati a mila è l'obiettivo già ne spero vado prima di con fumogeno vuol bene hanno rotto qui mi pare però è da sopra c'è jager metto i fumogeno lì e bacia risciti condividetelo rai non so dove il maledetto pulse non c'è domani a non salire dalle scalette te lo mette tutto il culo il pulsa è una riuscita che sopra l'apparata di vita ecco cammina di comando dai o di sport sia il salire anche sperando per il costo ecco ti dico mai ci sport è zitto e qua ci dice a me da lì la risposta se fai la destra c'era jager ah non si sta sporgendo eccola qua forse ecco aspetta aspetta fatti la botola se scendi dalla cucina li fai tutto il giro aspetta a fare le squadre aspetta guarda i miei due è qua e qua sta bene la cucina che sta sporgendo dove è la cucina forse è questa qui la cucina c'è uno qua cazzo nostro campi e puls già ne vattene da lì c'era i dietro e c'era il destra buttami bene 15 secondi 3 ma che perché è una raga fu morto sinistra e invece di sinistra sinistra si si era che cazzo dice c'è messo male che gianne va bene vicino alla sinistra settima volta che te casa diceva perché era la mia destra era la mia destra come sono messo io per la testa ma chi trova nel culo non so qual è la sua destra io ho detto destra perché era destra poi alle io ho smesso rimanere lì lo sapevo che c'era il pulso ma dovevo entrare ma dove vengo più madonna cosa se non entrasse il gianne moriva entrava allora abbiamo perso devo entrare anch'io per forza se rimori il gianne poi entrivi anche te ah ah paccato che a 0 secondi se non è entrato anch'io morivamo era perso il ramo paccato che sei nabbo bravo allora sei ganza basta costa è rotto il cazzo è rotto bravo il segretto mi spezza la finta frase dice sempre la finta muocco dio di vari frasi ma smetti un po di farle cacutu a va beh basta una volta vai basta da mazzo dai ammazzami no voglio farlo davvero fermo fermo Giani metti la qua alla camera cazzo dove lo spazio vada già messo No, ma che cazzo fai? Dovevo scappare Chi è che mi sta spammando il messaggio? No, Matteo, no Non rinforzare, non rinforzare, ok Siamo a 5 secondi Il drone nemico ha individuato il contenitore di vino rischio Anzi, sì, Matteo, viene rinforzare Se non accendevi lo si prende Eh, no, ormai non posso Ok, no, 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 a parte è perfetta, è perfetta No, vabbè, mi ha preso in testa con un colpo Mi ha preso in testa con un colpo di pistolino a caso Chiudi, John, chiudi Eh, se non ti togli No, vabbè, no, spesso di merda Ora no Hanno a Blackbird, boh, quant'è c'è c'è Non rispettà Eh, quello fa i punti Big point Oh, è che viene attiva costa Boh, costa di turni tutti, di turni otto squadre insieme No, c'è la pena Cazzo Mannaggia Da dove? Fai stare a me qua Ci lascia L'uscita Eh, c4 C4 No, no, no No No, di marrone Come ha fatto il filmito è dentro ma rotti da dentro ma se ti toglieri di costo che fori ma bravo che morisciato per una kill certo poi non hai fatto certo No, per colpa tua Dai, si può vincere Va mutato Vabbè, buon per lui Tutti dietro Gimappel Tutti dietro Gimappel Gimappel Quest'anno ora Vedi tacere termite che c'è Gimappel 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 Non potete capire come mi ha preso a culo Ibanau Mi ha preso in testa Mi ha sminato in testa con l'SMB a caldo A caldo, a strada un colpo Che posto di merda Dai, la combat Vi rompevo anche la mamma Ti vuoi dare a retta alla gente Prendi gli operatori utili Anche con glaz Un glaz uguale per gli occhi almeno due Cinque secondi all'interno Invece c'ho voglia di usare gli operatori che non uso mai C'entrano al fondo? Eh, però sono un'interno Quelli utili, quindi? Oh, andiamo tutti dal fondo Aspettate che entro prima io Voi intanto dronate Ho detto di dronare Cazzo è già entrato Cazzo è già entrato Cazzo è già entrato Cazzo è di spara un colpo Gianna aspetta Perché? C'è qualcuno a questo piano? Aspetta Spaccio nel traccio Spaccio nel traccio Spaccio nel traccio Spaccio nel traccio Bandit cast C'è il bambiano Al piano Al sinistra C'è il traccio E il traccio è ribanato Dove dovrebbero andato All'altra parte Dove è? Dove è bandit? No, è questa la parte giusta Che a meno rispondi da dietro Da di là Inutile Sinistra Sotto Ah beh, vado sotto Voi cercate di copirmi Se mi pusher A petta A petta controllo Dov'è? Ma con forzo Ma la vera domanda è Perché Siamo scella R33 La vera domanda è Perché Almeno uno di voi Non mi è venuto Dove vai Ma te Non mi da andare a sopra Vai matte Claymore Di essere Toxic Ah ma Ah ma Stanno sopra Da sopra Sotto Ma sei scemo Eccomi Eccomi Allora no Costa la Claymore Devi metterla sotto le scalette Sotto le scalette Qualcuno sfonda questo muro Non ho una mina Io Nessuno Dov'è il bandit Fermi Ci tornano a rielo Bandit Sembra Regalare Sì Anche qua sopra Uno ci planca Da qua sopra Già ne puoi stare A putere Messo Metteci La Claymore Vieni Tremu Ecco Sono G Il rucco Ma dove c'è Schifo Bello Fai schifo Buo Bravola Sei forte Fatto La chi Sei forte Davvero È Fatto bene Fatto Lo doveva killare La kill Ma che Non capisci Un cazzo Voi se te le fai Rubate le kill Sono cazzi Tu Ma Sbagliati Ancato E Mimino Piccino Capuzzo dietro Ma voi Dove Siete Tutti Adesso Il ghost C'è Sopra Oh ghost Mi hai un pochino a chiedere questo bus qua Come ha fatto Un uomo per la squadra alleata Oh non lo vedo Non lo vedete Nemmeno Sinistra Sinistra C'è uno Ma non puoi sparare così tanto a cavi Eccolo C'è un'altra in onda Non li vedo No raga Non li vedo Spari a casa Non li vedo Non li vedo Non li vedo Non li vuole Si rovo a casa Non ce rovo Nell'obiettivo Si vince In questa round Perché lo voglio usare io comunque sempre che arrivo C'è cavolo non vedevo cavolo A parte se mostriva bagagli No faccio spray Difendete la stanza dobbiamo proteggere il contesto Ma che si caga addosso Cioè oh ma è assurdo Unico erano in cui Matte non si prende il dock Perché è aperta te vita? Eh mi sembra giusto Ma dai rompere il cazzo parlando alle spalle Ma si sente forte Siamo a 10 secondi Ma non ho capito Barica ghost barica No ghost la scende a baricare per favore Ghost scendi a baricare che la cazzo di polpa è di merda Eh ma c'è il cast qua La parica il cast Lui ferma cancrata No cast e mori lì Fermi levatevi levatevi Via via gianni gianni sposta Oh guarda qui Ho rotto un bel in scazione Perché guardano nello spottino della vita Ehi tu Ma è rimasto solo una cam Cast e Stanno fermaitando subito Ci voleva il bandit lì Eh se c'era il bandit lì si era vinto Cazzo mi ha buttato la terra al glaz Beh io non c'ho più voglia diceva Di mudar loro No cast e ho Ma deve mollare di farla alle spalle Perché si cado Vabbè io lo muto Muto lui Eh diciamo Puttana Puttana Ma io sono ancora vivo Questi sono più scherzi Sì ho ammazzato credo Come è possibile che mi prendano? Non muore grazie No spi se non lo becca 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 Il Lidio non muore Non muore nessuno È impossibile Eh non muore mai nessuno per lui Un'altra clave Raga non posso blankarti Allarga il buco Che cazzo c'è il Loro No dovevi un shock così tanto No ci stavo per tirare uno zio Sbocco ci stavo Però Mi dicevi che riferimento Non ce lo spiace Ghost di fare l'ultima kill Attenta alle claimer Attenta alle claimer Ovvio lo so Cazzo l'ho già visto Destra regola se non sbaglio Questo è il bug del micro Ghost parla Ah Bohia Dov'è? Sì dov'è? I difensori hanno eliminato tutti i nemici Non è vero niente Oh wow Ma non ci stavo sparando anch'io Gianni Vabbè te l'ho rubato L'ho rubato spudoratamente L'ho rubato spudoratamente Sono pentito Perché non sapevo chi li stava sparando No Ghost sistemi il microfono Perché Ghost Ma che microfono di merda C'erò vai Trovate la posizione Va bene il microfono Ora si Giacal è un operatore di merda in aereo Ma in aereo non ci sta per un cazzo Secondo me Ma con questo account qua Gioca di merda Perché c'è chi operatori Siniciò L'imbarazzo della scelta E poi vengono gli operatori di merda Dove stanno? Stanno giù? Sì Il primo della loro squadra fa 2-4 Spotta? Spotta È il penultimo 5 secondi Sì Contenitore di bioristro individuato Raggiungete Ma dal fondo Dal fondo di sfondamento Ah Jager e Pulse Ma te lo divertì C'è almeno un altro dal fondo Vai Ale Ci sono anche Accanto alla porta Perché non c'è un cazzo di voglia di giocare Vabbè questo qua mi ha dropshottato in pre-fire È one shot È no Vrà sui 30 40 Cambio Sono io Kai È sul tetto È sopra Prendo io guardo in giro Dai No non è possibile Caste l'hai visto No dai Ci ha avuto culo Quante vita aveva? Matte vai coprire il flank da dietro Matte vai coprire le scale Piazza la cazzo Ma dai pensavo di aver l'ammazzato Ho spesso di sparare Ma guarda Gianni sei uno che fa pescare da dietro Ho smesso di sparare io Madonna Madonna Manco quelli fermi Manco quelli fermi Dietro c'è Pulse Raga venti di vita c'è Bello che ce l'aveva davanti Non lo chiamano Ho smesso Grande Matte Oh Matte Matte fermo Matte ti sta pushando Fermo 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 Matte stai fermo No No C'ho c'è il coso De Oh C'è di due matti col coso No c'è di due Anche il bale no No Che cazzo fai Il culo di merda Vai Matte pia Matte pia Matte pia Bello Matte Fermo dietro Maiale Ma che sto io C'è di merda Oh Matte vai Rompi rompi Faccio un buco Matte faccio Un buco Ma ti faccio un buco Tiraci le granate Eh gli ho granate Tiraccele Ma non così Tra in culiberno Destra è a destra È a destra È a destra No 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 Un'attacco Ieri ho basta che distruggi lo yo-kai ce l'hai fatta Sinistra È a sinistra Bernese in istrame lo scudo Non può Non può metterlo yo-kai qua dentro Rimangono 15 secondi Sta cercando un posto dove buttarlo Stai cercando un posto Stai cercando un posto Stai cercando un posto Tirare la flashbang Non puoi giocare se non avevi voglia Ma io voglio giocare col secondo account Me lo sono dimenticato Questo qua non c'ho Un senso di giocare Entro col secondo Non avviate Non avviate Ghost non fare avviare Ghost 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 non fare avviare No Non è assurdo